Quel giorno dovevo andare a fare ulteriori esami e li ho fatti, praticamente leucemia. Sono stato due giorni chiuso in camera pensando a tutto, a riflettere, a piangere. Mi passa tutta la vita, non sono lacrime di paura. Io, come ho detto, malattia la rispetto, ma so che la vincerò. Lo affronto, come sempre fatto, con petto di fuori, guardando il rito negli occhi. Un ringraziamento particolare alla mia famiglia, alla mia moglie e ai miei figli. La mia moglie che è stata tutti i giorni come ti amo, amore. Non mi sono mai sentito un eroe per quello che sto facendo. Solo un uomo, sì forte, con carattere, ma sempre un uomo con tutte le sue fragilità. Non voglio dire a tutti quelli che sono malati di leucemia o che hanno qualche altra malattia grave. Non c'è da vergognarsi, da aver paura. L'unica cosa che non devo perdere mai è la voglia di vivere.